Mmmmm, 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 va bene così, sei proprio una bestia, una bestia. Cosa faccio stasera? Eh? Andiamo da quella, come si chiama? Ma tanto per quello che devo fare, Giovanna, Maria, Stefania, è la stessa cosa. Ma forse dorme, chi se ne frega, la sveglio. Tanto tu non guardi in faccia a nessuno. Tu sei uno di quegli stronzi che si sveglia al mattino, si guarda allo specchio e si piace, sempre. Speravo di non vederti mai più, perché mi vergogno. Ecco, adesso ti guardo e mi vergogno. Cosa fai? Te ne vai? Te rendi così presto stasera? Allora guarda, prendi anche quella roba, perché sporca, sporca tutto. Scusa, eh? Sì, è vero, io mi alzo la mattina, mi guardo allo specchio e mi piaccio. Poi mi capita spesso di sporcare, sì, mi capita. A volte non mi accorgono nemmeno dei calzini bucati. In principio sì, Giovanna, Maria, Stefania fa lo stesso. Ma anche per qualcuna, sai? Giovanni, Vincenzo, Francesca è la stessa cosa. Per quella. E mi è rimasta anche la mano in bocca. Ti dirò la verità. Io sono venuto qua perché pensavo di raccattare qualcosa. Però sono venuto qua. Ho fatto bene a venire qua. Ora vado, sono sporco. Una di queste notti torno. Ma come ho fatto a venire con te? Come ho fatto? E poi non mi piace. Sei il contrario di quello che... Non mi piace come cammini, come parli. Non mi piace niente di te. È una cosa che voglio dimenticare presto. Uno mi ha ubriacato, mi ha scopato e mi ha buttato via. Stronzo. Piove. Una ragazza alzi il braccio. Io fermo la macchina, tassì. Lei è bella, bellissima. Dove un po' sta dormendo. E allora io la porto un giro per tutta la città. Ma lei beve. Beve troppo. Chissà perché berrà così tanto, mi domando. Allora la porto a casa mia. Lei sale. Poi si mette a ballare. Io voglio di fare l'amore, anche lei. Allora lo facciamo. Però lei non sa nemmeno come mi chiamo. Non me l'ha mai chiesto. Però facciamo l'amore. Ciao. Allora la porto a casa mia. Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Ciao Come va? Granita L'estate senza granita è come l'inverno senza bomboloni Siete di partenza? Sì È bello arrivare e partire per poi arrivare, per poi ripartire, per poi arrivare ancora, non trovi? Ma tu non dormi mai? Troppo dormo Lo sai che un uomo in campo a 70 anni e a 25 anni le passa dormendo? È come se morisse a 45 anni dimostrandone 70 Incredibile Ti quant'anni hai? 27 Hai già dormito 9 anni?